ciao sono giuseppe del modellismo sant'alessandro benvenuti nel canale del modellismo italiano oggi vi mostriamo alcuni velieri alcune barche in legno perché perché semplicemente chi si approccia per la prima volta a questo mondo ci chiede senta noi vogliamo fare un regalo noi vogliamo iniziare che cosa ci consiglia e noi vogliamo far vedere in questo semplice video qual è la differenza fra un kit impegnativo e un kit semplice semplicemente guardando così è facile dire che il kit più semplice è quello piccolo perché però è più facile quello piccolo quali sono le difficoltà che incontriamo nel fare un veliero di un certo livello rispetto che a un kit molto semplice ora vi mostro tre kit qua sul tavolo li possiamo vedere abbiamo una barca a vela la slope della corel la polacca veneziana del 1750 della mati e abbiamo sempre della corel la victory tre navi a caso tre veliere caso per mostrarvi quali sono le differenze fra quello che è facile e quello che è difficile venite che ve lo mostriamo ecco vediamo la slot quella che noi consigliamo a chi si approccia per la prima volta al mondo del modellismo navale è semplice perché abbiamo innanzitutto tutto il legno pretagliato possiamo costruire l'ossatura della barca abbiamo le vede pretagliate abbiamo i listelli che servono a fare il fasciame dopodiché come vedete dalla foto c'è un minimo di cordame quindi la difficoltà qui per chi inizia è sicuramente fare il fasciame e fare il cordame ma sono operazioni abbastanza semplici alla portata di chiunque chi vuole iniziare con questo modellismo con queste barchette qua non trova grosse difficoltà oltretutto la spesa non è esageratissima nel 2022 oggi queste barchette possono costare tra i 60 e gli 80 euro e quindi con una spesa non esagerata si può cominciare col modellismo navale ora vi faccio vedere qualcosa di un po più complesso per vedere la differenza ecco vediamo un veliero di difficoltà intermedia la polacca veneziana che vi abbiamo fatto vedere prima vedete legno pretagliato laser per fare l'ossatura lo scheletro della nave un bel pacco di spiegazioni la bandiera le vele disegnate da tagliare e abbiamo all'interno del kit tutto quello che serve per costruire la nave quindi ancora i listelli abbiamo un po di decorazione in metallo e un certo tipo di refe il refe sarebbe il cordame se voi andate a vedere il livello della barca il refe diventa molto molto più difficile quindi qui non c'è solo come l'altra barchetta una piccola interagliatura ma il refe diventa la costruzione della nave diventa molto difficile ci sono i nodi da costruire ci sono le bite le bigotte quindi cominciamo con questa nave veramente ad avvicinarsi al modellismo navale una nave che comunque piccolina è una lunghezza di 45 centimetri stiamo parlando di una barchettina rispetto a quella che vi faccio vedere adesso quindi questa la possiamo considerare un veliero una barca media però già un bel regalo per chi vuole approcciarsi al modellismo e ora vi mostriamo della core una barca difficile la barca impegnativa una tra le più belle la victory dell'ammirario nelson un metro di veliero già vedete le spiegazioni i fogli come sono di livello diverso abbiamo un numero di aggiuntivi incredibili sia in metallo brunito che in ottone che in legno abbiamo materiale come potete vedere presso fuso legno la difficoltà nel costruire la victory ecco se siete in grado di costruire la victory siete già di un livello incredibile però se voi regalate ad un neofita una barca come quella molto probabilmente dopo qualche tempo lancerà l'oggetto fuori dalla finestra non riuscire ad andare avanti quindi per quello consigliamo consigliamo caldamente come in tutte le cose si comincia ad agio e poi se c'è la passione si va avanti costruire una nave come questa una delle domande che ci fanno quanto ci vuole beh una persona che si impegna due tre ore al giorno per costruire la victory ci può tenere dai sei ai 12 mesi ci sono alcuni nostri clienti che hanno iniziato navi molto impegnative dieci anni fa hanno smesso poi ricominciato eccetera eccetera quindi non sono oggetti che si possono fare in mezz'ora la sera l'altra questione è che la nave essendo molto lunga l'operatività deve avere un suo spazio per essere costruita non è che voi prendete il veliero e tutte le sere lo spostate da una camera all'altra perché alla quarta volta lo spaccate quindi bisogna essere predisposti anche dal punto di vista dello spazio avere un angolo per il veliero un angolo per costruire conservare e tenere fermo per mesi la struttura ecco vi consiglio di valutare queste cose la lunghezza del veliero lo spazio che avete per costruire e la pazienza il lavoro sarà tutta opera vostra e se sarete bravi sarà un'opera vi aspettiamo quindi nel nostro negozio per verificare il nostro assortimento e oppure potete visitarci sul nostro shop modessantalessandro.com vi ricordo che sulle navi siamo i più convenienti d'italia